Per un numero ricordo, dove andava in villeggiatura anche Pirandello, abbiamo scoperto che quel paese sotto la Repubblica Romana avevano già stampato le monete, la moneta. Per quanto c'era, è una cosa che mi ha colpito tanto, cioè questo paesino dell'entroterra sulla Tiburtina, verso l'Abruzzo, ha aderito, cioè partecipava, i giovani sono venuti qui per, mandavano i riformimenti a Roma occupata durante la Repubblica Romana e tanto desideravano che questa Repubblica Romana si espandesse che avevano già loro stampato la moneta della Repubblica Romana. Come dice lanciare il cuore oltre l'ostacolo, avevano già battuto moneta. Avevano battuto moneta e ci stanno dei... ecco, vabbè, avevo preparato un altro discorso, chiaramente, ma non si può fare. Peraltro la memoria, io tra l'altro poi accanto mi sono occupata anche di memoria con le scuole e la memoria, capisco poi la polemica che ha fatto Anna Foa con Carlo, perché? Perché spesso e volentieri poi, in alcuni ambiti, la memoria, la testimonianza è stata presa come storia e questo, giustamente, è una storia che non la può permettere. Quindi, per esempio, anche noi siamo andati sempre portando le testimonianze, le microstorie, le storie dei giusti, le storie delle storie, accanto però all'inquadramento storico, perché, vabbè, giustamente è necessario che i ragazzi abbiano questa visione.